Lutto a Torrenova dove questa mattina è giunta la tragica notizia della morte del 33enne Salvatore Barbagallo che nella notte tra domenica e lunedì scorsi era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo a Sant'Agata Militello sulla strada provinciale 162 bis nel tratto compreso tra Villa Falcone e Borsellino e un noto ristorante. Lo sfortunato intorno alle 2.30 di notte mentre era alla guida di un motociclo per cause ancora al vaglio della polizia di stato avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto e battendo violentemente la testa riportando diversi traumi. Trasferito al trauma center dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella stessa mattinata di lunedì e poi tenuto in coma farmacologico. Le sue condizioni però sono sempre rimaste critiche. Questa mattina purtroppo il tragico epilogo che ha gettato nel dolore e nello sconforto l'intera comunità torrenovese che si è stretta in questi giorni intorno alla famiglia di Salvatore. I parenti nell'ultimo grande gesto d'amore per Salvatore hanno deciso di donare gli organi del giovane.